Musica Amiche e amici di Super J, buongiorno, ben svegliati. Oggi è martedì 28 marzo, come tutte le mattine inizieremo tra poco a sfogliare i quotidiani, la prima pagina delle quattro edizioni del centro, il quotidiano abruzzese e poi approderemo sul messaggero dando come sempre qualche notizia, leggendo qualche notizia nazionale e internazionale prima di approdare sulle pagine dell'inserto abruzzese. Il buongiorno questa mattina arriva da Giancarlo Rapagnà in regia per la messa in onda sul nostro canale, il 16. Allora iniziamo subito con la prima pagina dell'edizione teramana del centro. Super bonus nel cratere fino al 2025. Teramo passa l'emendamento che prolunga i benefici dell'area del sisma. Bambino ucciso dal trattore, donate le corne e indagato il papà, il fatto avvenuto a Pescara. Altre notizie, patto per aiuti ai nuovi iscritti tra il comune e l'università, questo a Teramo, sempre a Teramo, meno parcheggi per i cantieri, sconto al gestore. Schianto con lo scooter è gravissimo, operaio di 36 anni perde una gamba nello scontro frontale con un'auto, l'episodio che è accaduto nella zona di Tossicia. A Castellalto lo sciopero fa il 100% alla Purem, i lavoratori protestano per lo spostamento della produzione. Poi nel corso della nostra rassegna stampa vi proporò anche un servizio sulla Purem tratto dal Tg andato in onda ieri sera. A Tortoreto la CS lancia un piano per assumere 50 operai e poi Silvi al voto. Scordella cerca il bis con 5 liste a sostegno. In taglio alto, migranti in Abruzzo, sbarco della speranza dopo l'odissea in mare. Oggi a Ortona tutto pronto per l'accoglienza. Cospito, no dei giudici ai domiciliari a casa della sorella Pescara, l'anarchico in sciopero della fame. Fotonotizia che riguarda purtroppo qualcosa che sicuramente non fa onore all'Abruzzo perché i musei fanno registrare pochi visitatori. L'Abruzzo è penultimo in Italia nonostante le nostre straordinarie bellezze. Il dato è allarmante. L'Abruzzo è penultimo in Italia per visitatori dei musei. È l'ultimo in rapporto al numero di strutture. Nel 2021 solo 4 musei abruzzesi su 84 si sono salvati. Museo delle armi e delle mappe antiche della fortezza di Civitella del Tronto, l'Eramo di Roccamorice, il castello Piccolomini di Celano, il museo dell'Abruzzo bizantino e alto medievale di Crecchio nella zona del Chietino. Lasciamo la prima pagina dell'edizione di Teramo. Andiamo a Pescara, donate le corne del piccolo Luca, schiacciato a 4 anni dal trattore. Il papà è indagato per omicidio colposo. Poliambulatorio nel parco. Questa giunta è addormentata. Gli ambientalisti occupano l'aula. E ancora l'Aquila, bimbo morto all'asilo. Quattro indagati, travolto da un'auto. Honda, stop alla crisi, 110 assunzioni. A Tessa, l'azienda delle moto incontra i sindacati. Premio di produzione per gli operai. Raffia, il gioiello del Pescara. Parliamo di calcio. Assiste giocate di qualità. È un pilastro del gioco di Zeman a Pescara. Il lutto è morto Coletta, il decano degli arbitri. Evento benefico, l'ex terzino Cabrini. Domani sera sarà presente a Tortona. Andiamo sulla prima pagina dell'edizione Chieti-Lanciano-Vasto. Teatro e servizi, sì al piano anticrack. Il via libera in Consiglio Comunale a Chieti, ma la maggioranza resta spaccata. E ancora, case di riposo. Trenta lavoratori rischiano il posto. Honda, stop alla crisi. 110 assunzioni. Adatessa, l'azienda della moto incontra i sindacati. Premio di produzione per gli operai. Donna in coma, risolto il giallo. A Chieti, decisive le indagini di una telecamera. La 71enne ha avuto un malore. Esclusa dunque l'aggressione. Allo scalo di Chieti, strade rotte e strisce pedonali. Fantasma. Cambiamo edizione. Andiamo direttamente a quella dell'Aquila-Vezzano-Sulmona. Caos, bollo auto, si può pagare a rate. L'Aquila, le cartelle del 2009. La regione era sicura, è possibile annullarle. Civitella in lutto. Mamma morta. Procura e Asl avviano l'indagine. Poi leggeremo anche sulle pagine del messaggero. Tragedia dell'asilo, quattro indagati. Chiusa l'inchiesta. L'Aquila per la morte del piccolo Tommaso, travolto da un'auto. Le cerimonie del 6 aprile. Il sisma, 14 anni dopo. L'Aquila e Turchia, stesso dolore. La giovane Kanzu Solmez accende il bracere della memoria. L'Aquila calcio, grande festa per la Serie D. Domenica, allo stadio. Gran Sasso d'Italia. L'appello Cinema Film Commission. Sul Mona vuole diventare sede. Vuole la sede. Bene, lasciamo il centro. Andiamo adesso sulle pagine del messaggero. Iniziamo con la prima pagina, dando uno sguardo a ciò che accade in Italia e nel mondo. Commercio, saldi tutto l'anno. In Consiglio dei Ministri va il decreto concorrenza. Via i limiti regionali sulle vendite promozionali. Tregua fiscale, proroga a settembre. Super bonus, più tempo per i lavori sulle villette. Saldi tutto l'anno nel DDL concorrenza che sarà varato dal Consiglio dei Ministri. Vengono eliminate, appunto, come dicevamo, i limiti agli sconti. Assalto in una scuola da parte di una 28enne, poi uccisa, morti tre piccoli e tre adulti. A Nashville, la killer dei bambini, bimbi della Covenant School a Nashville. Eccole qua. Escono dalle aule dopo l'attentato. La piaga anoressia, incitare alla dieta diventerà un reato. Proposta di legge di Fratelli d'Italia, fino a quattro anni di carcere, agli influencer del dimagrimento. Ovviamente bisogna affidarsi ad esperti, a nutrizionisti, a dietologi, a dietiste, perché sanno bene come comportarsi e dare consigli giusti per chi vuole dimagrire. e non lasciar parlare gli influencer, perché di mestiere, praticamente, questo è un mio parere, non fanno nulla nella vita. Andiamo avanti. Saldi tutto l'anno nel DDL concorrenza via i limiti agli sconti. Abbiamo visto in prima pagina, sottratto alle regioni, il potere di regolare le vendite stagionali. Vincoli temporali cancellati anche nel caso di promozioni. Prevista un'unica autorizzazione per l'offerta dei negozi che operano in comuni diversi. Il PNRR va a supplementare un mese in più per i fondi. Nel mirino scelte di Draghi, il faro di Bruxelles, su concessioni aeroportuali, teleriscaldamento e progetti comunali a Firenze e Venezia. In ballo ci sono i 19 miliardi della terza tranche. Palazzo Chigi chiama in causa il precedente governo. Pronto soccorso aumenti per medici e infermieri. Decreto di Schillaci per incentivare i sanitari a lavorare in prima linea. Punite con un aggravante le violenze in ospedale. Tetto agli esterni gettonisti. Lo straordinario nei reparti d'urgenza potrebbe essere portato a 100 euro l'ora. In corsia anche i dottori stranieri. Poi c'è l'intervista a Filippo Anelli. Più soldi era necessario, ma potrebbe anche non bastare. E' ciò che sostiene il Presidente degli ordini dei medici. Il privato è ancora attrattivo. Tregua fiscale, notizia che ovviamente interessa un po' tutti noi. Proroga a settembre per sanare liti e dichiarazioni errate. Nel decreto sulle bollette, oggi in Consiglio dei Ministri, previsto anche un pacchetto tributario. Il bonus sociale sull'energia riservato alle famiglie con un ISEE inferiore a 15 mila euro. durerà fino al prossimo mese di giugno. Cambia anche il super bonus. Più tempo per le villette. Votate alla Camera le modifiche al decreto. Lavori fino all'autunno per le uni familiari. O che alla piattaforma per i crediti saranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario. Allungata a 10 anni per i privati. La possibilità di sfruttare dunque le detrazioni. Sullo stop l'Unione Europea ha i biocarburanti. L'Italia tenta l'ultimo a fondo. Oggi il voto finale dei ministri dell'energia picchetto. La partita è aperta. Ci sono spazi di manovra. Lasciamo adesso le notizie. Anzi, voglio leggere la notizia che abbiamo visto in prima pagina. Ovvero, ecco qua. Ciò che è accaduto a Nashville. Fucili d'assalto e pistole. Strage alla scuola cristiana. Il killer è una ragazza. Tre bimbi e tre adulti vittime di una ex studentessa 28enne. Uccisa poi dalla polizia alla Casa Bianca. Quanto sangue serve ancora per una legge sulla sicurezza? Purtroppo in America l'acquisto delle armi è facilitato. Basta essere maggiorenni ed è facile acquistare le armi. Abbiamo visto che episodi di questo genere portano una firma anche di ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggior età. Andiamo adesso nell'edizione abruzzese del Messaggero. Eccoci qua. L'inserto Luca dal dolore all'altruismo. Pescara donate le corne del bimbo di quattro anni morto sotto il trattore. Eseguito l'espianto, completati i rilievi. Il padre è indagato per omicidio colposo. Il funerale è ancora da fissare. All'Aquila chiuse le indagini in quattro verso il processo. Il piccolo Tommaso investito all'asilo. Tragedia annunciata, dice la procura. E poi c'è un episodio che riguarda Giulia Nova, una studentessa, io violentata da un prof, fatto d'accusa di una liceale. L'aggressione sarebbe avvenuta in una stradina quando lei aveva 15 anni. Il docente è finito sotto processo. A Lanciano molestia una paziente. Sconto per l'infermiere. Cataldo dall'ospedale. È dura ma sono vivo. L'avventura del ciclista di Lanciano che è ricoverato in Spagna, Girona. Bello è possibile. Bussi ritrova il castello, la magia dell'edificio restituito alla città. Due giorni di eventi. Ancora coletta addio al decano degli arbitri abruzzesi. In taglio alto l'Aquila, ex compagni e tifosi, emozione per la scomparsa di Egno Ponzi. Serie C, un Pescara convincente, si appresta al rush finale. Poi Pescara la si è attrezzato. Strage di Pini, erano pericolosi, dice l'ANAS. Andiamo dunque all'interno. Le spine del lavoro, crisi, terremoti, credito. L'artigianato perde 10 mila imprenditori. In dieci anni, meno 22% di aziende. Peggio, Teramo regge di più l'Aquila. Il presidente di CNA Abruzzo. Ma la categoria non si arrende. Il calo di volumi di affari dovuto alla concorrenza della grande distribuzione. Reti idriche, Colabrodo, Maglia Nera al Chietino. E ancora centri per l'impiego. D'Alfonso critica la regione. Lega entrano l'ex assessore Zrour e altri 30 amministratori locali. A Giulia Nova Tesserati, la consigliera Antonella Guidobaldi. E lo zio Pierangelo Guidobaldi. L'avvocato Guidobaldi. A Pescara, Luca, l'atto d'amore dei genitori. Donati gli occhi del bambino. L'espianto delle corne eseguito ieri saranno conservate in attesa di trapianto. Il papà Enio di Mastro Girolamo, indagato dalla procura, l'accusa è quella di omicidio colposo. La Polizia Municipale e Scientifica hanno completato i rilievi. Senza scampo l'impatto con il trattore. Elettricità, monossido, ustioni. I piccoli sono imprevedibili. Occhio ai pericoli della casa. Parla un dirigente medico del 118. Sarebbe una buona norma tenerli al chiuso quando sono in azione mezzi meccanici. L'incidente sul lavoro perde un dito nell'impatto tra lo sportello e un autobus. Ancora a Pescara. Ecco la giunta che dorme in comune. Flash mob dei comitati in difesa del verde. Banchi dell'esecutivo occupati prima del Consiglio sull'asilo previsto intanto nel parco pubblico di via Fornace. Bizzarri c'è stata contro questa iniziativa la manifestazione degli ambientalisti. 50 pini sacrificati in nome della sicurezza. Proteste per l'eliminazione degli alberi allo svincolo via Raiale dell'asse attrezzato. L'ANAS, alto rischio impatto e tronchi troppo inclinati verso la sede stradale. Completamente ripulite le uole, sparti traffico. L'intervento è eseguito venerdì senza alcun preavviso. Pubblico protagonista attivo a DOQD, i dieci anni del festival del documentario. Fondazione Veronesi, la prevenzione chiave della longevità. Ciccone, il commercio, ha perso un pioniere. In tanti, domenica, hanno partecipato nella chiesa evangelica di Montesilvano alle esegue di Gioele Ciccone, imprenditore del commercio, morto a 90 anni. Aeronautica, 100 anni e tanta storia della città. All'aeroporto militare sono transitati avieri ufficiali oggi in ruoli importanti, con un nello dipinto indimenticabile il periodo di servizio con il ministro Tagliani. Dai magistrati Campi e Di Florio, al sommelier Luca Panunzio e al giornalista Rai Antimo Amore, i tanti ricordi degli ex. Pescara a Lussemburgo, il volo degli affetti, i figli degli emigrati, tornano in vacanze. È atterrato ieri il primo collegamento della Luxair, a bordo i due ambasciatori, per sottolineare il legame tra i paesi. La vera strada parco e la riviera De Martinis conferma a Montesilvano la ripresa dei lavori, dubbi di Claudio Ferrante, barriere insuperabili lungo il percorso. Da Cepagatti agli schermi Rai, Stefano, 19 anni, nel programma Diaco. All'Aquila adesso, per la morte di Tommaso, gli indagati sono quattro. Ricorderete il bambino che è stato travolto dall'auto che si era sfrenata ed era finita all'interno dell'asilo. Sono state chiuse le indagini preliminari. La procura accusa tragedia annunciata. Dito puntato sulla donna che era la guida dell'auto, la preside della scuola e due tecnici. In due escono dalla vicenda giudiziaria. Questo è il punto che riguarda l'episodio, il drammatico episodio che si è registrato nell'Aguilano. 6 aprile, ricercatrice turca accenderà il braciere, la messa in suffragio delle vittime ci sarà alle 18 del 5 aprile nella chiesa delle Anime Sante. Scuole, le minoranze chiedono un consiglio comunale aperto. Il sindaco Biondi istituisca un assessorato al diritto dello studio che riunisca tutti le competenze. Ancora via la gru del cantiere del municipio, ci sono le varie modifiche. Ponzi, il numero 10 ormai nella leggenda. Unanime il cordoglio del mondo del rugby e delle istituzioni. In molti persone riservate non sapevamo della sua malattia. Il ricordo del sindaco Biondi e del senatore e collega Liris. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 a Collemaggio. Altri tempi fu il Paolo Rossi della palla ovale, quando la palla ovale all'Aquila insomma regalava grandi emozioni, grandi risultati. Ricordiamo che l'Aquila si è freggiata anche di titoli italiani, dello scudetto. Ed era una delle società, quella regbistica, nero verde aquilana, tra le più importanti in Italia. Non a caso ha dato anche giocatori alla nazionale in passato. A Rischia sabato torna la passione. Avventura in città, il mercato di piazza d'armi, il sac sempre più economico e sovraffollato. Ancora, donna morta, l'ospedale avvia un'inchiesta. L'ospedale romano Sant'Andrea ha disposto un'indagine interna sul caso della 45enne Grazia Sabatini deceduta dopo un intervento. Il cordoglio del presidente della regione Lazio, Rocca, non mi sento di esprimere giudizi, attendiamo però di capire. Contrabbando di tabacchi, ne 10, vengono rinviati a giudizio. Divieto al 53enne violento di avvicinarsi alla famiglia Sulmona dopo minacce, pedinamenti, danni all'auto e persino l'installazione di una telecamera sul balcone della ex. A Sulmona la sede di Film Commission lo chiede vivamente tutta la struttura amministrativa sulmonese. A Roccaraso parcheggi abusivi scatta ora la demolizione. Ad Avezzano in consiglio restano divisi. Azione è Italia viva. Approdiamo ora a Chieti. Teate e servizi delibera approvata ma la maggioranza è spaccata. Ok dal consiglio alle linee guida del piano di risanamento dell'azienda. 13 voti favorevoli per il via libera ma non per l'immediata esiguibilità. Va detto anche che in aula, come previsto, non si sono presentati sei consiglieri delle liste civiche ad assistere. Ci sono stati anche i dipendenti. Centrosinistra e polo civico, distanze sempre più lontane. Emorragia cerebrale 73enne trovata in coma. Una donna di 73 anni è stata trovata priva di sensi sul pavimento della sua casa in via Sciucchi alle porte del centro storico e trasportata poi in coma all'ospedale Santissima Annunziata la scorsa notte a causa di un'emorragia cerebrale. Niente conferma per il direttore sanitario a Chieti. Andiamo adesso a Lanciano. Molestie alla paziente, sconto di pena. La Cassazione conferma la condanna dell'appello a 3 anni e 4 mesi per l'infermiere Antonio Di Biase, 67 anni, accusato di palpeggiamenti. Il legale Biscardi. I fatti sono stati riscontrati non gravissimi. I fatti dunque non sarebbero gravissimi. L'uomo la conosceva da tempo, volevo solo dimostrarle affetto. Il pronunciamento della Suprema Corte ha aperto un nuovo scenario anche per altre vicende analoghe. Ad Ortona arrivano oggi in porto i 161 migranti. Sbarcheranno intorno alle 17. In Prefettura ieri si è tenuto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il ciclista Cataldo all'ospedale di Girona è dura. Sono felice di essere ancora vivo. Sono felice di essere ancora vivo ma me la sono vista proprio brutta. Il corridore Chietino Dario Cataldo ha rischiato moltissimo nell'incidente avvenuto una settimana fa durante la prima tappa del Giro di Catalogna. Una caduta che gli ha provocato fratture multiple sulle quali è stato anche necessario un primo intervento chirurgico abbastanza lungo e un altro alla clavicola. È previsto nei prossimi giorni. In bocca al lupo ovviamente al ciclista. Civeta, vasto, nuovo commissario. L'allarmismo è infondato. Andiamo adesso a Teramo. Liste, programmi e sfilata di BIG per i tre candidati alla carica di sindaco. Il 6 maggio ci sarà Donzelli, attesi anche i ministri Crosetto e Lollobrigida in sostegno di Carlo Antonetti. Schlein invece per il sindaco uscente Gianguido D'Alberto. Ricordiamo che Maria Cristina Marroni è la candidata donna, unica donna che correrà per la carica di primo cittadino. Sfida per il sindaco. Maria Cristina Marroni sta chiudendo intanto tre formazioni in suo appoggio. L'azienda pure ma delocalizza in Romania. 80 lavoratori a rischio eppure c'è lavoro. Sciopero a Villa Zaccheo, tanti giovani con contratti settimanali. Welfare buono. E allora, visto che affrontiamo il tema del lavoro, un'azienda che pare essere in salute, ma la proprietà ha deciso in pratica di trasferire l'attività in Romania, un'azione che ha scatenato le proteste dei dipendenti che sono scesi in piazza scioperando. Andiamo a seguire il servizio. C'è preoccupazione da parte dei sindacati e dei lavoratori per il futuro della Purem, un'azienda di Villa Zaccheo che ha appena delocalizzato un progetto in Romania. Questo progetto avrebbe dovuto garantire da maggio in avanti il futuro lavorativo di questi operai. Cosa temete? Teniamo la tenuta occupazionale perché questo progetto che sarebbe stato vitale per il sito di Castellalto viene affidato al 100% in Romania. Lo avremmo dovuto lavorare al 50%, ma quel 50% avrebbe comunque garantito a tutte le 80 maestranze, a tutti gli 80 lavoratrici e lavoratori di continuare a lavorare dentro al sito di Castellalto. In realtà la delocalizzazione di questo progetto apre degli scenari nefasti per tutto il settore perché è evidente che la Purem by Eberspecker, che è la multinazionale che detiene Purem Castellalto, ci sta facendo capire che ha già fatto delle scelte nel settore automotive. Avete convocato un tavolo in provincia ma i vertici aziendali non si sono presentati. Di tutta risposta abbiamo ricevuto una seconda lettera in inglese, tra l'altro, che diceva in sostanza che loro non si sarebbero presentati e che se avessero avuto delle novità rispetto all'assetto di tutto il gruppo sarebbe stato loro cura farcelo sapere. In sostanza ci hanno boicottato. Sindaco, a lei da parte dell'azienda una comunicazione riguardo il futuro della Purem è arrivata, vero? Si parla di rimanenza, si parla di spostamento per via delle tariffe per quando riguarda l'energia, però effettivamente non c'è niente di concreto. Combattiamo contro multinazionali senza volto. Oggi sono in tanti qui a rappresentare queste esigenze di confronto con le multinazionali che vogliono chiudere aziende sane. Abbiamo visto insomma cosa sta accadendo alla Purem. Andiamo avanti con la rassegna stampa. L'incidente di Torricella Sicura, schianto autoscuter, operaio di 36 anni, perde una gamba. Stava andando a completare un lavoro per il comune di Torricella. Ci sono delle indagini in corso. L'episodio è accaduto qualche anno fa, violentata dal prof in una stradina. Una studentessa di 15 anni ha testimoniato a porte chiuse sui presunti abusi di un insegnante. Faceva apprezzamenti, l'imputato oggi ha il divieto di avvicinamento e in passato durante il lockdown è stato arrestato, ma lui nega tutto. I difensori, il percorso fatto dalla parte offesa, non coincide con il tracciato di Google Maps. Alberi uccisi, il caso ai carabinieri, sradicati i nuovi pini del Salinello. Ancora Giulianova, la banda del buco assalta il market, ma scatta l'allarme. In due hanno provato a svaliggiare la cassaforte, ma si è attivato il sistema interno di sicurezza. Ha visitato anche il cantiere dell'impresa edile Mucciconi, residente, chiama i carabinieri e fa sventare il furto. Dopo l'assemblea PD, Picchini, Movimento 5 Stelle, Arboretti pronto ad un passo indietro. Andiamo a Silvi, si vota anche a Silvi, Scordella e gli altri quattro candidati. Tentativi di sintesi tra civici e sinistra. Le pagine sportive si parte dal Pescara. Pescara convincente, ora via al rush finale. Pur non portando via la vittoria al Catanzaro, la squadra ha giocato a viso aperto e con coraggio. La cura di Zeman comincia a dare i frutti a livello di tenuta atletica, ritmo e intensità. Dobbiamo dire che è stato concesso però al Catanzaro un rigore davvero fantasma. Tra i migliori in campo, il bomber lescano, il terzino sinistro Milani. Marani, Delfino Grande Realtà, il presidente della Serie C in visita in città, strizza l'occhio ai ragazzi di Zeman. Il basket, Roseto, nel merino la Luise, il primo posto, qualche affanno per battere l'Avellino, ma domenica è scontro con l'ultima della classe. Dobbiamo dire che il Roseto intanto ha aggaggiato in classifica, ha una striscia importante, risultati utili consecutivi, le ultime cinque tutte vinte per il Roseto, così come anche la Luise Roma. Mentre ci sono passi falsi da parte dei Ruvo di Puglia, ricordiamo che lo scontro diretto con Ruvo di Puglia il Roseto ce l'ha favorevole, hanno le due squadre 38 punti, sono andato in classifica, appaiate, ma con Roseto al secondo posto, a Invetta, ricordiamo, c'è la Luise Roma. Se Roseto dovesse agganciare la formazione capitolina, avrebbe lo scontro diretto favorevole. L'Aquila, bella sensazione, la gioia di Massimiliano Barberio e Salvatore Di Giovanni, i due presidenti che hanno conquistato la DIN in anticipo. Il day after, la gestione, cerchiamo di programmare tutto senza fare il passo più grande della gamba. Però prima di dire chi resta o va via, dobbiamo riunirci e vedere quante somme la società vuole impiegare per il futuro. Ricordiamo che comunque la Serie D è un campionato impegnativo e dispendioso. domenica intanto è prevista la festa, allo stadio si esulterà con tutta la città. La Coppa Italia di Serie D Pineto, la finale in Romagna contro la forte Gianerminio, le feste dei tifosi al ritorno dalla Calabria, Mauro e Ingiambè, commoventi e unici. La finale dovrebbe giocarsi in Romagna, si spera la Manuzzi di Cesena, almeno questa è una delle ipotesi. la sede però verrà scelta tra qualche giorno, tra qualche settimana, perché ricordiamo che la finale si giocherà il 27 di maggio. Intanto leggiamo, due erano le ipotesi circolate ieri per quanto riguarda la sede, nello staff per la località o lo stadio che dovrà essere designato dalla Lega, Sant'Arcangelo di Romagna o San Mauro Pascole, entrambe le località rappresentano infatti una via di mezzo, Trapineto e Gorgonzola, ricordiamo che c'è anche il Manuzzi, che sicuramente si presta molto di più, visto che è uno stadio che ha accolto partite di Serie A in passato. Dilettanti, comitato regionale, il biegno di Memmo. Eccellenza, Giulianova già pensa ai play-off nazionali, Mister Cerasi, domenica abbiamo disputato una delle più belle gare per intensità. Giulianova che vuole evitare gli spareggi regionali, approdare subito la fase nazionale, 11 punti di vantaggio sulla Renato Curi-Angolana che al terzo posto sono davvero tanti, l'Angolana che dovrebbe accorciare a meno 7 per sperare nei play-off regionali. Ci sono però solo 9 punti a disposizione, mancano 3 giornate alla fine del campionato, Giulianova dovrebbe perdere 4 punti su 9 a disposizione ed è un'impresa tra virgolette difficile vista anche la situazione e lo stato di salute della formazione giallonossa. Bene, è tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa, di prima mattina torna, domani puntuale come sempre alle 7, alle 9 invece l'appuntamento con a colazione Dorotea Mazzetta e il suo ospite, che ritroveremo poi alle 10 e mezza con Veronica Fiorà, con l'appuntamento dove mattina. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.